Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare di un punto di agopuntura, il vescica biliare 37, Guangming. Prima di iniziare vi ricordo però di iscrivervi al canale tramite l'icona in basso a destra e di biffare successivamente la campanellina. WB37 si localizza 5 sun sopra la punta del maleolo esterno, sul bordo anteriore della fibula. Yangfu tradotto in latino diviene lumen ax splendor. WB37 è il foramen nexorium o punto lo del meridiano, dal quale parte un meridiano di compensazione verso l'accoppiato, ovvero il fegato, e precisamente verso il punto fegato 3. Vescica biliare e fegato sono infatti entrambi in coppia, nella fase evolutiva legno. Essi formano insieme un meccanismo di compensazione intrafasico, dunque è necessario che siano congiunti tramite piccoli meridiani denominati reticolares o lo. Il funzionamento dei reticolares è come quello dei vasi comunicanti. Dal meridiano del fegato e dunque dal nostro punto WB37 parte questo meridiano lo verso il punto fegato 3. Il meridiano del fegato ricambia la cortesia facendo partire a sua volta un lo dal punto fegato 5 che termina sul punto vescica biliare 40. Vediamo le indicazioni per il punto WB37, almeno per come risultano dai testi antichi. Questo agopunto sostiene regola il chiepatico, fortifica muscoli e tendini, migliora la vista, disperde vento e apre la superficie. WB37 si utilizza per sostenere muscoli e tendini. È indicato in caso di debolezza muscolare, dolori muscolari, disturbi agli arti inferiori, paresi, crampi e spasmi e soprattutto per l'impossibilità mantenere la stazione eretta. WB37 si utilizza anche per le malattie vento. Queste sono caratterizzate da agitazione improvvisa, attacchi simili epilettici, febbre, combribidi, crampi, emicrania. Si chiamano malattie vento quelle non solo da riferire a eccessi climatici ma soprattutto quelle caratterizzate da una certa qualità specifica dei disturbi. Vento nella tradizione cinese è un termine tecnico. Si definiscono malattie vento quelle caratterizzate da un improvviso e veloce esordio, da una sintomatologia erratica e canciante. Il paziente è letteralmente dinamizzato, lamenta contratture, spasmi, parestesie. Si osserva un netto organotropismo verso muscoli e articolazioni. Il polso è teso come una corda. Soprattutto si chiamano malattie vento quelle con una stringente colorazione o connessione rispetto a collera non estrinsecata. WB37 si utilizza soprattutto nel trattamento delle malattie dell'occhio come per esempio la vista appannata, la cecità notturna, la cataratta nelle sue forme iniziali, l'infiammazione oculari, le degenerazioni oculari. WB37 guanming tradotto significa luce e splendore. Il nome richiama direttamente all'aiuto nella visione che dona la stimolazione di questo agobonto. Tuttavia la luce ha anche un riferimento alla capacità del punto di placare rabbia. Infine lo splendore è altrettanto un riferimento alla forma fisica correlata a un ottimo apparato osteomuscolare. Nel nome ritroviamo pertanto le tre indicazioni maggiori per WB37. L'ago punto WB37 è allocato sulla strada di connettivo meridiano della vescica biliare che ha relazione con l'orbita funzionale che porta lo stesso nome. L'orbita funzionale vescica biliare è peraltro associata a quella del fegato, entrambe in fase evolutiva legno. Queste due costituiscono un insieme di organi, funzioni e tessuti tutti uniti dalla stessa finalità biologica e sociale. Queste due contengono insieme l'occhio, le unghie, il fegato, la vescica biliare qui come organo non come meridiano, tendini, muscoli, articolazioni, l'utero, gli organi di riproduzione, il sistema immunitario e per gli odontoiatri, gli odontoni terzi dall'arcata inferiore e superiore. I denti canini. L'orbita funzionale vescica biliare corrisponde a livello emotivo al campo emozionale della collera e a livello mentale al conflitto del cacciatore. Mi è sfuggita la preda, non ho difeso il mio clan, non ho consegnato al mio clan le risorse predate, non ho avuto il coraggio, non ho avuto la fantasia di creare qualcosa di nuovo eccetera eccetera. Sono tutte problematiche che riguardano questa sfera. In soluzione, tuttavia, il soggetto che ha patito questi conflitti esprime uno straordinario talento nel proteggere il proprio clan, nel sostenerlo con risorse predate, ma soprattutto nell'arricchirlo di colori e di arte. L'agopuntura è una terapia riconosciuta dalle maggiori istituzioni sanitarie. In Italia l'agopuntura è atto medico fin dal 1984. L'UNESCO l'ha definita patrimonio culturale dell'umanità. Bene, siamo alla fine del video di oggi. Lasciate un commento, sarà mia cura rispondere a tutti. Spero di vedervi presto ancora. Arrivederci!